Io sono Cecilia Salvai e sono difensore centrale della Juventus e della Nazionale Italiana. Essendo me stessa sia in campo che fuori, non è che ci penso se sto dando un esempio giusto o no, nel senso che io sono me stessa e quindi penso che se qualcuno vuole prendermi da esempio come modello sia libero di farlo, nel senso che penso di trasmettere dei giusti valori, una giusta disciplina, un giusto comportamento. Anno dopo anno sto iniziando a sentirla questa responsabilità, soprattutto perché gli anni passano e iniziano ad arrivare in prima squadra ragazzine che hanno dieci anni meno di me, quindi iniziano a dire ok, non sono più la più piccolina del gruppo. Però mi piace fare un po' da chioccia, soprattutto alle ragazzine e a quelle che sono con noi, che vedo ogni giorno, ovviamente la cosa è molto più facile perché c'è un rapporto molto più diretto. Però spero in generale attraverso comportamenti, parole, adesso anche attraverso i social, di dare il giusto esempio delle ragazzine che stanno inseguendo il mio stesso sogno, che si troveranno, che magari iniziano adesso a giocare a calcio e che quindi vedono me come il punto dove loro vogliono arrivare perché è il punto più alto a cui loro possono aspirare. Se sei in grado di portare veramente i giusti obiettivi, poi fai di tutto per raggiungerli, dal periodo più brutto che possa capitarti a quello più bello. Grazie.